Ricordo benissimo la prima volta che incontrai Roberta. Era seduta sui gradini del teatro, io avevo appena finito di recitare, recitavo in una filodramatica italo-australiana. Lei era appena arrivata a me il buono in visita, allora non sapeva ancora che anche lei ci avrebbe abitato per un po'. Io, ripeto, recitavo in una filodramatica, mentre Roberta era già un'attrice teatrale molto brava, molto conosciuta, veniva dalla scuola di Streller e niente, mi colpì tantissimo non solo per questo bellissimo tagliere pantaloni che aveva, penso che fosse Giorgio Armani, ma per la sua voce strepitosa, la voce più notturna, calda, sexy che avessi mai sentito. E lì fumammo insieme una sigaretta. Io, che all'epoca fumava ancora, ma avevo appena finito di recitare in questa compagnia amatoriale, e lei è una grande attrice già affermata. E lì ci incontrammo, diventammo amiche e non ci lasciamo più. Roberta è una persona fantastica, una di quelle persone così dolci che... niente, è una persona bella dentro, una persona bella fuori. Abbiamo fatto un sacco di cose insieme, e per un periodo abbiamo anche abitato insieme con le nostre piccole famigliuole, i nostri piccoli nuclei familiari. E ci siamo sempre incontrate, sempre tenute in contatto, nonostante i chilometri, nonostante le distanze, nonostante le cose che succedono nella vita. E lei mi ha sempre ospitato nella sua minuscola... prima nella minuscola casetta, nel minuscolo appartamento di Monteverde, sopra i tetti di Roma, e poi nella grande casa, con diversi piani, a Vercelli, la casa teatro. E con Roberta ho sempre questa sensazione, fino all'inizio l'ho avuta, che è come quando prendi in mano dal tavolo una scatola di fiammiferi, e la scuoti per vedere se ci sono dei fiammiferi dentro. Lo facciamo tutti in modo automatico, senza che ce ne sia un motivo, senza che abbiamo veramente il bisogno di accendere un fiammifero. Però quando scuotiamo la scatolina, e dentro ci sono veramente i fiammiferi, quel rumore che fa, quel tintinio delle gneti contro le pareti di cartone, dà un senso di appagamento e di soddisfazione. Ecco, questo è il senso che mi ha sempre dato Roberta, è starle vicino. Mi dispiace tantissimo di non poter vedere il suo spettacolo, dove lei parla di me, ma so che presto riuscirò a vederlo, Roberta. Spero che presto riusciremo anche a abbracciarci di nuovo. Intanto voglio mandarti questo come il mio personalissimo regalo di compleanno, poi ci sentiremo al telefono più tardi, però intanto volevo mandarti questo e dirti che ti voglio bene e che sono contenta che tu sia ancora e sia rimasta e che spero rimarrai ancora per molto dentro la mia vita. Happy birthday, Roberta!